A Cene ci sono novità per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti solidi urbani, che cosa sono queste novità e da quando entreranno in vigore? Dunque da ottobre entrerà in vigore la raccolta dell'umido, prima c'era già una raccolta differenziata per quanto riguardava i metalli, la carta e la plastica, adesso si andrà anche verso l'umido, quindi non ci sarà più il sacco nero indifferenziato, ma ci sarà una raccolta dell'umido settimanale attraverso un cestello che viene, un contenitore apposito che viene fornito dall'amministrazione comunale, non a pagamento, si cercherà però di non far pagare neanche un aggravio sul sacco in plastica, per cui cerchiamo di andare verso un discorso di ulteriore differenziazione di educazione civica. All'inizio ci sarà un po' di confusione magari, ma nel tempo, come è accaduto anche in altri paesi, speriamo che la parte di educazione civica prevalga. Auguriamoci anche che i cittadini non comincino, come fanno in altri paesi, a gettare la propria immondizia per strada, semplicemente per non magari pagare il sacco dell'immondizia a Cene, questo non succede per ora perlomeno, speriamo nell'educazione dei cittadini di Cene, che comunque hanno sempre dato dimostrazione di grande partecipazione. Altra novità di queste settimane, che finalmente sono partiti i lavori al ponte, che cosa si sta facendo in questo momento? E niente, il riordino della via Fermi, quindi sostanzialmente la realizzazione dei parcheggi e la messa in sicurezza della via con la realizzazione di un marciapiede controlaterale e anche di un restringimento della carreggiata e due passaggi pedonali protetti in modo da rendere più percorribile e più lenta la via, perché è altissima percorribilità. Si è cercato anche di limitare al minimo la perdita di verde, in realtà abbiamo solo tagliato una siepe e spostato un po' più in là il manto erboso, ma non dovrebbe esserci nessun tipo di problema in quel senso. Mi scuso un po' per il disagio, magari per quanto riguarda la transitabilità della via per il mese di settembre. A ottobre partiremo col ponte, non dovrebbe essere neanche in quel caso garantito, dovrebbe essere garantito la percorribilità dei mezzi, quindi non ci sarà interruzione del traffico come molti mi hanno chiesto. Ci sarà comunque un po' di disagio, me ne scusi in anticipo, ma credo che l'opera finale valga questo tipo di incombenza. Quando prevedete di concludere i lavori? Io annunciavo che i lavori iniziavano a giugno esattamente tre mesi fa, quindi mi hanno detto, perché non sono io che lo faccio, che impiegheremo circa nove mesi un anno, per cui sarei molto ottimista per l'estate 2012, diciamo imprevisti permettenti.